Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Duplice tragedia in provincia di Treviso a Casale Sul Sile. Un uomo ha ucciso la moglie accoltellandola, poi si è tolto la vita. La coppia ha 72 anni, lei e 73, lui è stata ritrovata perché la figlia non riuscendo a mettersi in contatto ha allertato il 112. La donna è stata trovata sul letto, uccisa, accoltellata, mentre l'uomo è stato trovato impiccato in garage a casa. Il 73enne ha lasciato una lettera. Sono in corso indagini per ricostruire questa terribile tragedia. E adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto in provincia di Vicenza. È lì trasportato all'ospedale il conducente di un'auto per un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore. Vediamo. Poco dopo le 10.30 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 247 Riviera Berica ad Agugliaro in crocio con via Pilastro della comune di Campiglia dei Berici per un incidente tra due auto. Un ferito, il primo intervento di soccorso da parte di un vigile del fuoco di passaggio prima dell'arrivo della squadra proveniente dall'Onigo. Hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzato vari strumenti per riuscire a estrarre il conducente rimasto bloccato all'interno della Ford Focus. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Il leso il conducente della Mercedes. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e rilievi del sinistro. Momenti drammatici in via Dante a Padova dove un uomo ha investito per errore la moglie facendola finire all'ospedale. I due erano arrivati insieme in auto e l'uomo stava parcheggiando la macchina quando la moglie è scesa per fargli manovra. Lui non si è accorto che era proprio dietro al mezzo e facendo retromarcia purtroppo la colpita in pieno. Numerose le lesioni che la signora ha riportato e all'ospedale è finito anche l'uomo in stato di shock. Nell'ambito delle numerose iniziative di solidarietà per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina potrebbero inserirsi malintenzionati in grado di indurre le persone tramite raggiri e inganni a donare sostegni economici che in realtà poi non vengono recapitati a chi vive le difficoltà della guerra in Ucraina. Il raggiro potrebbe consumarsi attraverso l'indicazione di account e IBAN in grado di ricevere pagamenti istantanei o con bonifico. È necessario dunque, avverte la questura di Padova, prima di effettuare le donazioni, verificare l'esistenza e l'affidabilità del beneficiario anche mediante riscontri sui siti internet ufficiali. E dunque bisogna fare attenzione, come spiega la questura di Padova, ma la macchina della solidarietà si è messa subito in moto. Ci sono donazioni raccolte di materiali e anche di denaro. Le immagini di quello che sta accadendo in Ucraina tengono tutti noi con il fiato sospeso. Vite stravolte in pochissimi giorni, una quotidianità distrutta ed esseri umani che hanno perso tutto quello che avevano. Storie di persone che ci strappano il cuore e la macchina della solidarietà è già in moto. C'è chi va a prendere donne e bambini ai confini, chi ha messo a disposizione alberghi, le proprie case, amministrazioni locali che cercano luoghi idonei all'ospitalità. Sono partite anche le raccolte di materiali da portare direttamente sul posto. Le persone non hanno più nulla, dal cibo ai vestiti, le medicine. Sembra impossibile che questo possa accadere, ma gli ospedali non hanno farmaci e prodotti a sufficienza. La Regione Veneto ha attivato anche un conto corrente attraverso il quale i cittadini possono fare delle donazioni in denaro con la causale Sostegno Emergenza Ucraina. Vediamo l'Iban in sovraimpressione. Già centinaia i cittadini che hanno donato. Tragedia all'interno di una ditta di legnami a Porto Viro. Marco Crivellari, dipendente dell'azienda, era in bicicletta e si stava spostando da un punto all'altro quando improvvisamente è crollato. I colleghi accorsi immediatamente hanno chiamato il 118. L'uomo ha perso la vita. Ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Marco Crivellari, 58 anni, sarebbe stato parecolto da un malore fatale e per quello sarebbe caduto. Dolore tra i colleghi e i proprietari dell'azienda nella quale Marco era dipendente da moltissimi anni. A Mestre la polizia ha arrestato un uomo che ha scippato una signora nei pressi della stazione ferroviaria. La donna è stata avvicinata dallo sconosciuto, buttata a terra. L'uomo finito in manette potrebbe essere responsabile di altri scippi avvenuti ai danni di altre signore. I sanitari che non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale sono stati sospesi dagli albi degli ordini di appartenenza e pertanto non possono più lavorare e nemmeno percepire lo stipendio. La Guardia di Finanza durante alcuni di questi controlli ha denunciato un fisioterapista che in terraferma veneziana continuava a ricevere i pazienti in ambulatorio nonostante fosse stato sospeso. Lo studio è stato sequestrato, il medico è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. E adesso una notizia importantissima per il territorio veneto e non solo. Via Libera della Commissione al documento strategico sulla mobilità ferroviaria dentro l'alta velocità Padova-Bologna e la piove di sacco Chioggia. Allora sentiamo. Via Libera della Commissione al documento strategico su mobilità ferroviaria dentro l'alta velocità Padova-Bologna e la piove di sacco Chioggia. Un passo importante per le infrastrutture venete e padovane in particolare. Un sì all'alta velocità Padova-Bologna e la linea piove di sacco Chioggia commenta così Roberto Caon, parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Trasporti della Camera. Il parere positivo è giunto a maggioranza schiacciante una sola astensione al documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci elaborato dal ministro Giovannini. Un documento prosegue Caon che finalmente mette nero su bianco quello che il territorio chiedeva da anni. Decine di comuni veneti che includendo anche la provincia di Padova presentano milioni di cittadini hanno votato nell'ultimo anno nei rispettivi consigli una mozione per chiedere la realizzazione di quest'opera fondamentale per assicurare un collegamento rapido e necessario tra il Veneto centrale e il resto d'Italia con ripercussioni positive anche sulle linee dei pendolari e sui convogli merci. Una buona notizia che non arriva da sola. Nel documento infatti c'è anche la realizzazione del collegamento ferroviario tra piove di sacco e Chioggia e ancora andando oltre la provincia di Padova l'elettrificazione delle linee Vicenza, Schio, Legnago, Rovigo, Isola della Scala, Cerea la realizzazione delle tratte, feltre, primolano e i collegamenti ferroviari tra Verona e Treviso e i rispettivi aeroporti. Il prossimo passo sarà lo studio di fattibilità. Occorrerà essere rapidi perché sono questi i veri investimenti per una transizione ecologica in grado di camminare con la ripresa economica. Numerosi punti della provincia di Vicenza sono stati interessati da incendi di sterpaglie. È stata una notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco di numerosi distaccamenti. Il fuoco è comparso a Bassano del Grappa, Siago, Carrè, Valli del Pasubio, Sarcedo, lungo la strada Pedemontana e Arzignano. Anche alle 7 di giovedì mattina il fuoco ha fatto la sua comparsa ad Arzignano. Si ricorda che permane lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi emanato dalla regione Veneto che riguarda diversi territori comunali a rischio della provincia di Vicenza e fino alla comunicazione della revoca dello stato di grave pericolosità sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio. Sono previste sanzioni per i trasgressori. Adesso rivediamo insieme un servizio che parla di telecità e dell'innovazione di questi nuovi sistemi che entreranno in funzione per vedere la nostra rete a partire dal giorno 10 la prossima settimana. Il mondo della TV cambia. Dal 10 marzo 2022, giornata che in Veneto rappresenta lo switch-off come da roadmap governativa per il reforming delle frequenze, telecità punta all'innovazione e diventa smart. Lo storico canale televisivo dedicato al mondo del ballo, delle migliori orchestre italiane, delle tradizioni popolari, locali e con tanta informazione diventa smart, offrendo al pubblico più soluzioni a portata di telecomando. Dal 10 marzo Telecittà avrà il vantaggio di essere posizionata al numero 19 del telecomando tramite tecnologia HBB TV. Bisognerà entrare in quel canale e premere il tasto rosso del telecomando. Da lì sarà visibile il marchio Telecittà con tutti i suoi programmi. Ma tecnologia e innovazione per la rete padovana non si fermano qui. La società editoriale scende in campo con un'app come quella dei grandi gruppi internazionali e rende disponibile in tutti i televisori di nuova generazione l'app Telecittà. Sarà scaricabile dagli store dei grossi player, televisori con tecnologia Android, nei televisori LG e Samsung. Per chi non è in possesso di un televisore smart, l'app Telecittà è disponibile anche nelle chiavette Amazon Fire Stick. Una chiavetta che si può acquistare e rende fruibile i contenuti smart anche nei televisori acquistati qualche anno fa. L'app Telecittà sarà scaricabile e visibile ovunque, senza confini e in alta definizione. E siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale con le ultime notizie. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata.